Nel decennale del naufragio della Costa Concordia, il Tribunale di Grosseto ha organizzato al Teatro degli Industri il convegno dal titolo Per Non Dimenticare, in collaborazione con il Comune di Grosseto, la Fondazione Polo Universitario Grossetano e il Comune d'Isola del Giglio, l'Ordine degli Avvocati di Grosseto. In apertura, all'inno suonato dagli insegnanti del Liceo Musicale del Polo Bianciardi e dopo i saluti delle autorità, è stato ricostruito il naufragio della Costa Concordia. Abbiamo pensato di ricordare tutti i morti, feriti di quella tragedia, che è una delle tragedie del mare più grandi che ricordiamo, il dolore delle famiglie, dei familiari, il terrore degli altri passeggeri in quei terribili momenti e poi lo sforzo di tutti coloro, forze dell'Ordine, volontari, vigili del fuoco, altre forze di polizia che si sono impegnati nelle operazioni di recupero. La sentenza è costata tantissimo di impegno non solo a noi giudici ma a tutta la cittadinanza. Un'impresa che era molto superiore alle forze di una città o di un tribunale. Cosa ha insegnato? Dal punto di vista tecnico si siano adottate una serie di nuove prescrizioni da parte degli organismi internazionali, come ad esempio il problema della ridondanza dei motori in locali che non si toccano. Schettino continua a dire che quella manovra l'ha fatta lui? Non può averla fatta lui perché non aveva più i timoni, non aveva più i motori. Bisogna ringraziare per chi ci crede la provvidenza divina, per chi è laico il vento di Grecale è la corrente.